Tre motivi per dire di no allo ius soli. In queste ore il Partito Democratico, sfruttando in maniera patetica la vittoria della squadra per il lavoro femminile alle Olimpiadi, sta cercando di fare propaganda sull'us soli. Primo, la legge sulla cittadinanza già esiste e funziona. Nessun diritto è sottratto o negato allo straniero. I figli di immigrati nati e cresciuti in Italia al compimento del cittesimo anno possono scegliere autonomamente di richiedere la cittadinanza italiana oppure no. Inoltre, è bene ribadirlo, essere cittadini italiani significa abbracciare valori, tradizioni, identità che costituiscono il fondamento dell'appartenenza a una comunità. In assenza di tutto ciò, non può esserci alcuna reale integrazione nel nostro tessuto sociale. Secondo, nonostante le polemiche della sinistra in Italia, vengono concesse tantissime cittadinanze. Siamo stati noi la nazione che ha concesso più cittadinanza nel 2022, per l'esattezza 213.700, pari al 22% del totale dell'Unione Europea, davanti a Spagna e Germania. Terzo, sarebbe un fattore che alimenterebbe ancora di più l'immigrazione verso l'Italia, con tutti i problemi sociali e sicurezza che già vediamo. Senza controlli, requisiti e prove, si andrebbe a dare la cittadinanza anche ai delinquenti, delle baby gang straniere, protagonisti di atti criminali gravissimi. Inoltre, la cittadinanza facile porterebbe più tragedie in mare, con tante donne incinte che proverebbero attraversata per far nascere i propri figli nel nostro paese. Tra l'altro, in automatico, non sarebbe più espellibile nessuno adulto o straniero legato ai minorenni con nuova cittadinanza. Insomma, bisogna dirlo chiaramente, no allo ius soli è un pericolo per l'Italia.